Ciao ragazzi, fai salutare a Chico. Chico! Ciao, ciao ragazzi. E' qua. Tutto pronto per Campiglio. Ci vediamo, ciao. Ciao a tutti ragazze. Ciao, bella, quale ci ho aperto, quale c'è Fede e siamo in bagno. Pipì, pipì per tutti. Adesso lo vado a fare io. Chi è qua? Bella raga, tante auguri Ale. Grazie, grazie, sono io, sono io. Chi è? Di qua, chi c'è? Ah, c'è Nicolás. Fatte la fisciata in diretta. Sì. Eh, volevo aspettare che Nicolás riuscisse. Allora me la faccio io. Vai. Vado. Vai, vai. Nicolás. Tanti auguri. Grazie, grazie, raga. Adesso sono qua. Io. Io, no. con il mio pisello che sborso un po' di piscio. Eccoli! Questa è un video! Bella, bella gianda! Ti guaccia. Mister Grissino. L'uomo Grissino? Ciao, raga. L'uomo Grissino? Siamo qua. Fai una dichiarazione? Allora. Vale, eh? Vale, eh? 1 dicembre. Vale. 2023, ore 13.03. Vi devo dire una piccola cosuccia, un piccolo segreto, ragazzi. C'è un piccolo segreto, ragazzi. No, sono allergico alle pesche. Uè! 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 Le montagne russe! Ciao, raga. Siamo di nuovo qua. E ci rivediamo direttamente a Madonna di Campiglio. Un bacio! Ciao! Eccoci! Eccoci! Siamo arrivati! Salute al vlog! Posso bevelo? Andri! Perché se dicevi che ho pensato a quello sul bene, si è visto. Ma cos'è questo che stiamo bevendo? Viva, viva! Viale Niedrati. Bene! Viale Niedrati. Valle di Ledro. Viale Ledro. Valle di Ledro. Viva! 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 Buono sto struto, il cazzo, una fetta, un pezzetto mi è rimasto. Bene, ci aggiorneremo dopo, ciao. Ragazzi, siamo qua. Siamo arrivati in albergo. Qua, così. Ciao. Posso, Alberto? Posso? Sto facendo il vlog? Copriti le parti intime. Ciao. Ciao. Ecco, questo è il Berti che si sta facendo il bidet. Adesso andiamo dai ragazzi a trovarli. Metto un attimo le mie ciabatte. Eccoci, 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 eccoci. No, chiuso la chiave qua la camera. Qualcuno è timidino. Allora, allora. In piena sessione. Ciao, poi? I game. Saluto al vlog. Oh, ciao ragazzi, scusate ma siamo in piena sessione. Ciao, ciao. Ciao, ciao. No, no, siamo impegnati. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ha mollato la bomba, eh? Eh, che tommeno. Diciamolo. Eh, lei. Vabbè, raga, buona sessione. Ci vediamo dopo. Ciao. Adesso andiamo. Eccoci, raga. E qua c'è Giovi. Stiamo facendo il vlog. Buonasera. Eccolo lì. Buonasera. Sono qua. Questa camera doppia. Giovanni e Francesco. Hai visto il nuovo cop? Deo. Quelle pro. Deo. Quelle che hanno tutti. Senti. Sono durissime. Sì, boh, ma perché sono nove. Allunga il filo. Aspetta che ti faccio sentire. Questo è in diretta, ragazzi. È la prima volta. Tutto a tutorial. Tutto a tutorial. Sound check. Bomba. Bomba. E non grattano quando le alzi al massimo dalla console. Non grattano. Perché hanno 120 decibel. Damn. Yeah. Così, raga. Sentite? Eh? Eh? Bravo, Giovi. Bravo, Giovi. Dov'è Francesco? Francesco è uscito. Non so. Scommenate a chiamare la sua fidanzata. Eh? 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 Allora, salutare gli altri. Grazie Giovi. Niente. Ciao. Vediamo, vediamo se Nicole risponde. Allora. Ah, eccolo Francesco. Saluta mia cugina. Tu l'hai conosciuta tra l'altro. Ciao, ciao. Anna, sì. Anna. Oh, bravo. Salutate il vlog? Buonasera. Vlog, vlog, vlog. Questa è la camera di Nicole. Tutta in disordine. È Elena. Ma non c'è ancora la sua parte. Quindi è tutto disordine di Nicole. Ma cosa? Che disordine? Tutte queste valigie. Piene. Ancora piene. Vabbè, ma tu hai già disfatto. C'è un messo dell'armadio anche. Vabbè, voi siete fuori di testa per tre giorni. Mettete tutto l'armadio. C'è i miei sacchetti? Boh, adesso lo faccio. Bravo, Alec. Fatti dalla mamma. No, fatti da me, approvati dalla mamma. Perché quest'anno ho detto No. Ho 21 anni. Ho 21 anni, devo prendere le mie responsabilità. Voto il Senato. Voto il Senato io. Mi ha portato un giocco da sci. Aspetta che l'ho scelta. Oh, damn. Un crop top. Indossala, indossala. Un po'. Vediamo il fit check. Bella, bella. Senta. Damn, damn. Potrebbe andare in centro a Milano con questa cosa qua? Anzi, a Roma. Sì, figa, molto figa. Brava, Niki. Buon terreno. Vediamo qua la terrazza. Come cazzo si chiama? Terrazza che comunica direttamente con il camera. Ah, sì, sì, è vero. Di qua, così. Là, siamo noi. Niente. Queste sono le istanze. Vi faremo salutare dopo Valentina e Andrea. Che saranno in bagno, probabilmente, a fare la cacca. Non lo so. So, io. Ciao, raga. Salutate. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Bene, ci vediamo dopo per un aggiornamento. Ciao. Adesso andiamo a salutare il Grinch. Sapevo questa biblioteca. Oh, allora. Ma hai emollato la merda? No. Vale. Hai fatto la cacca? No. La cacca. Ha fumato la rica. Ah, sì. E questo? Il cazzino sull'antifumo dell'odale. Ah, tu hai messo il cazzino. Ma cosa dici? Io ho messo il cazzino. Ma vai, io no. Che brutta. Ti sei vista? Dobbiamo usare tra i clazzino minuti. Allora. Ma cazzo. Niente, ho corso un po'. Siamo andati qua, dai ragazzi. Di nuovo, ho fatto una corsetta, uno sprint per il corridoio. Yohoho. Dai, vuoi vedere il codice, bastardo? Bastardo. Ma la cassa puerta? Bastardo. Si sa. Non è il solito. Sì. Sì. Bob, sei il mio pisello. Anzi, Bob, sei il mio pisello. Ci ha molto rile. Ci ha molto rile. Camera 28. So cosa riprendere io qua. La maneggia del casi. Niente, raga. Era soltanto uno spezzone per aggiornarvi sulla situazione. Ciao. Bella raga. Siamo tornati qua. Davanti al negozio. Siamo in centro a Madonna di Campiglio. Ciao, raga. Ciao. Eccoli qua. Andresi soppiarnato. Boccolone. Vediamo se c'è qualche perpita. No. Bella perpita. Qua c'è il bar. Ciao. Qua c'è il grado. Ciao. Guarda che c'è qua. Animo Boot. Vien. Becca sta ciabbe. Guarda questo. Ciao, puoi. Becca chi sta ciabbez. Ciabbez. Niente, questa è la vetrina. No, c'è Nicolas. Vai là. Eccoli lì. Tommaso. Ciao, ragazzi. Ciao. Mancano l'apparello tra ragazzi. E... Eccolo, eccolo, eccolo. No, così, secco. Questa è la neve. Che c'è? No, 10 gradi. Fa caldo, fa caldo. Se non piadessi mi toglierei la giacca. Fa caldo. E... Boh, adesso facciamo un po' di poze. C'è la cattola che è la cattola che è la cattola che è la cattola che è la cattola. Ah, guarda tu. Oh, po' di poze. Ma lui è io? No, è un po' di poze. No, è un po' di poze. Ma sono degli spatoloni tu? Dai, can, non capisci un cattolo. Basta, diciamo da respiro. Bene. E salvo la batteria e la memoria per dopo. Ciao. Bella raga. Sì. Ciao. Posso? Sì, adesso siamo arrivati alla prima tappa di... Della serata. Da vloggare. No, no. Valentina ha fatto shopping. Gli ha chiesto di fare... Oh, no, potrei fare un regalino. Cosa pre... Ah, è un bambuco. Panico. Ma che colore? Panico. Oro. No. Se vuoi, guarda, li ha presi alti, ma li vorrebbe... Degno. Oro, davvero? Sì. C'è un tonoro. Bella raga. Bella raga. Siamo qua. Bella raga. Siamo qua. Questa è l'arma del delitto. Ma hai detto tre prima tu. Un quanto te l'hai rischiata. Beh, Joe. Quindi sei con il cuore perché l'hai detto pure dopo. E Giovanni ha perso. Ha perso. Che genio. Sei un genio di tu. Dai, Joe. È tutto tuo. Dai. Ma no, tutto. Dai, tutto. No, no, ma lo mangio. Lo mangio, lo mangio. Abbiamo un poca monaco. No, corso, dai. Metà, dai. Metà, metà. Fino a dove c'è il taglio. Fino a dove c'è il taglio. Tenete un pezzo di pane libero, bastardi. Dai, tieni, ce l'hai pronto. Ma c'è il tuo taglio. C'è anche quello qua, salsatornata. C'è l'occhio. No, no, no. Mi sento male per lui. No, invece il piccante secondo me è proprio già con il piccante. Sì, sì, sì. Ma è sopportabile. Allora è che la scioglietà. Allora è che la tocca. E danni un altro postiglio. Non sopportabile. Che mi pare? Non sopportabile. No, dai, no. Ho le emorroidi. Ho le emorroidi. Ho le emorroidi. Bella raga, siamo qua. Gatto delle rei. Gatto delle rei. Si va. Si va, si va. Si monta in sella. Si monta in sella. Si monta in sella. Ciao. È un po' buio, no? Eh, vabbè, vediamo quello che si vede. Eccoci qua. Con la ring light. Stai vloggando? Sì. Stiamo tutti, eh. Bella. Ciao. Ciao, ciao raga. Bella raga, sono il ciccio che mi fa. Prego, prego. Grazie. Ciao. No, ti li ho persi. Ah, cazzo. Io ho i ferri attaccato, eh. Ragazzi, non è questo. Ragazzi, non è questo. No. Bella raga abbiamo sbagliato il gatto delle nevi. È questo. È questo. Bella raga abbiamo preso il gatto delle nevi giusto. Siamo arrivati, siamo arrivati, siamo usciti vivi dal gatto delle nevi. Ciao, quanto sono oggi? Eh, vale. Non è che ci ha salutato il gatto? Vale? Vale? Ho salutato dieci volte, secondo me, oggi. Salutiamo tutti. Ciao raga. Ciao. 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 Buon, adesso ordiniamo, eh. Ciao raga. Ciao. Tutti a fare il brindisi. Per me. Per me. Sì, sì. È proprio il mio buceano. Tanti auguri a me. Buon, ragazzi. È arrivato il cibo. Ricchi. Buon, ragazzi. Buon, ragazzi. Buon, ragazzi. Abbiamo tutti tutto? Sì. Sì. Buon appetito, ragazzi. Grazie, buon appetito. Bene a tutti, ragazzi. Questo è noi. Siamo, siamo qua con, 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 con il vodka lemon. con, 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 con la sedia e il, con, con il pieno. No, questo è il vlog, questo è il vlog, questo è il vlog, siamo qua. È proprio il mio copiano, è ancora un po' di là, ma, aspetta, a che ore sono? Abbiamo, le 10 e le 20. Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. Buonasera, voglio quello... Alvi, stai ferma, guarda il telefono, guarda il telefono un secondo. No, no... Vermani otto e mezza sveglia, noi andiamo a sciare ragazzi, perché ormai abbiamo preso lo ski pass e bisogno. Ho fermato una rissa ragazzi. Mi vedi ingrassato? Mi vedi ingrassato? Grazie Alex! O le ingoi, Ale, occhio! Allora, vedete, vedete il mio drink? Aspetta, fai vedere la GoPro! Fai vedere, fai vedere la GoPro! Quell'altra magia! Vedi, 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 Vano! No, vuoto! Sai perché? Perché Ronny se l'ha finito! Allora, come... Come vi chiamate? No! Caprizio! Posso dire? Posso dire? Intanto non è vero! Allora, non è vero! Io sono Tommaso, ma conosciuto nella zona come il mago! Il fresco di zona! Ok, andiamo, andiamo la Papri! Eh, Federico, come ti ciami? Come ti ciamate? Io sono fresco di zona, mi dispiace! Ma che cazzo dici, Tommaso? Io sono Ellie! Tu chi ascolti, Shiva? Ok! Io sono più bassa, sì! Io sono la più bassa di tutti, è vero! Non mi vergogno di questo! Però, Ale, non è che sia tanto più alto di me! Cioè, ve lo dico! 1,79! Ciao, ciao Deboli! Ci vediamo domani alle 8 sulle piste! E non è ancora più bassa di tic toc! Oh, ma che cazzo è? Non lo so! Non lo so! Ma cosa allora fa l'altro? Ciao, aspetto! Ciao, Aspetto! Ciao, Abra! Ciao, Abra! Ciao, Abra! Ciao! Ciao Abra! Ciao Abra! Ciao Abra! Ciao! Ciao Abra! Ciao Abra! Ciao! bene a tutti ragazzi questo nuovo video siamo con alessandro andrea e can bella a tutti ragazzi questo nuovo video sono con qua con jovi il fresco e siamo per girare il blog a melano 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 nicolas questo è bello questa non si taglia Elena la pugliese alle 4 pompini gratis in stanza 25 ok ma tanto arriviamo ah 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 Sì, sì, sì. Apri la voca C'è una sboccacciata E domani Alberto Comprarai Grande Alberto C'è una sboccacciata